Nella breve introduzione che all'inizio del quinto episodio di The Wolf Among Us riassume i fatti salienti delle puntate precedenti, finisce per risaltare quello che in fondo è il difetto più terribile della produzione Telltale Games. È sufficiente una manciata di scene, infatti, per ricordarci di quanto flebili e poco incisive fossero le scelte morali a cui il titolo ci ha messo di fronte. Insipide e per nulla determinanti ai fini dello svolgimento dell'intreccio, alcune di esse si trascinano fino alla fine, ma senza mai avere delle conseguenze forti. Né a livello investigativo né sul fronte narrativo, insomma, la condotta del giocatore si ripercuote in maniera consistente. La serie, quindi, si chiude senza forza, con un finale sospeso ed un paio di sequenze davvero troppo deboli. Il quarto capitolo aveva rimesso la serie in carreggiata, riuscendo a prolungare in maniera efficace una riuscitissima attenzione da Noir. Crywolf rovina tutto dalle prime battute, quando ci consegna in maniera quasi brutale il nome di un killer senza mai averci dato nessun indizio per capirlo. Dopo questa rivelazione un po' scomposta, cominciano due sequenze d'azione di certo efficaci. È il lungo inseguimento quello che meglio riesce a tenere sull'attenti il giocatore, impegnato in una serie di quick time event abbastanza ritmati. A seconda che si riesca o meno a raggiungere l'auto dei fuggitivi, assisteremo ad una scena che rappresenta forse quella più riuscita dell'episodio, cruda e diretta. È questo il momento in cui vengono finalmente rivelati gli accadimenti che hanno portato all'esecuzione di Lily e Faith. E sono, duole ammetterlo, accadimenti regolari, prevedibili. Una storia di malavita finita male. Una storia semplice e dimenticabile, come tante altre che nascono fra i bordelli e i vicoli malfamati delle città. Chiuso finalmente il caso, non resta che incontrare il mandante, la mente che regola la malavita di Fabledown. Prima di raggiungere The Crooked Man, ovviamente, ci sarà da affrontare la terribile Bloody Mary, Nemesis giurata di Bigby. Il prevedibile scontro avviene in un'ambientazione ben realizzata ed atmosfera. Peccato che poi la battaglia finale finisca per risultare meno efficace di quello che avrebbe potuto essere. Qui, sia la satanica Mary che il lupo mostrano la loro vera natura, quest'ultimo tornando finalmente ad una dimensione intimamente e inaspettatamente fiabesca. La nuova trasformazione di Bigby avrebbe potuto rappresentare il culmine dell'episodio, eppure manca qualcosa. Forse l'aiuto della colonna sonora, assente e ingiustificata per quasi tutto il corso della puntata. Ed ecco che ci si avvia insomma verso la parte finale dell'avventura. È qui, proprio prima della conclusione, che bisogna compiere la scelta più importante di tutto l'episodio. A seconda delle nostre azioni, quello finale sarà un processo al boss della criminalità di Fabledown, oppure alle intenzioni del violento braccio della legge. Ma per quanto si sforzi Crywolf di farvi credere che i dialoghi continuano qualcosa, alla fine il processo si risolve sempre in un solo modo, con l'apparizione improvvisa di un personaggio che mette fine alla discussione, chiude le questioni e ci porta direttamente all'epilogo. Proprio quest'ultimo, ambientato un giorno dopo agli eventi terribili di Crywolf, fa frettolosamente il punto su qualche altra scelta del giocatore, prima di svelare nuovi dettagli sulle vicende insinuando un dubbio terribile che viene inghiottito dal nero dello schermo. Questa sorta di cliffhanger tardivo, pur apprezzatissimo, non basta per risollevare le sorti di una vicenda che dopo gli entusiasmi iniziali non ha mai decollato, restando senza mordente anche nel momento della resa dei conti. Peccato mortale per un poliziesco è poi il fatto che al giocatore non fossero date gli strumenti per interpretare gli eventi, i cui retroscena si palesano in maniera troppo spesso improvvisa e poco incisiva. The Wolf Among Us, insomma, finisce in sordina. Crywolf è comunque tenuto in piedi dalle belle scene d'azione, da una scelta che in effetti influisce in maniera consistente sulla parte finale del gioco e da un momento più drammatico di tanti altri. È proprio a seconda delle azioni del giocatore, però, che il giudizio su questo capitolo può cambiare fortemente. Ma, insomma, c'è a monte una sceneggiatura un po' fiacca, personaggi che risultano spesso incoerenti e cambiano opinione con estrema facilità ed un accompagnamento musicale che non si sveglia quando ci sarebbe il bisogno di crescere in ritmo ed intensità. Purtroppo, tutte le qualità eccezionali del primo capitolo, fra cui una marcata attenzione alla regia ed un forte alone di mistero, non sono mai tornate. Purtroppo, tutte le qualità eccezionali del primo capitolo. Purtroppo, tutte le qualità eccezionali del primo capitolo.